Il Procurement digitale consente di ottimizzare la gestione degli acquisti di ciascuna organizzazione sia pubblica che privata. Noi di Veniscom abbiamo sviluppato Procure, la piattaforma evoluta di e-procurement, con l'attenzione di arricchire l'ecosistema gestionale del cliente tramite l'interscambio continuo dei dati e delle informazioni tra i diversi sistemi preesistenti. Alcuni esempi di integrazioni che abbiamo implementato sono il collegamento con CMOG, il sistema di perfezionamento dei codici identificativi di gara nei server dell'ANAC, la pubblicazione degli avvisi degli appalti pubblici presso l'ente europeo TED tramite il sistema CIMAP, l'integrazione per la generazione del file XML in standard comunitario DGUE e l'automazione dell'invio delle richieste documentali ai fini delle verifiche ex articolo 80. Inoltre, implementiamo l'integrazione di anagrafiche, protocollazione e gestione documentale dei migliori software gestionali sul mercato pubblico e privato, perché crediamo nella distribuzione attraverso partner accreditati e autorevoli agli occhi dei clienti finali. Le organizzazioni oggi hanno sempre più necessità che i sistemi utilizzati siano aperti per avere totale padronanza nel controllo dei propri dati. In ProQ utilizziamo le più recenti tecnologie attraverso comunicazioni e ambienti criptati per assicurare il più alto grado di sicurezza. Inoltre, l'automazione delle integrazioni consente alle organizzazioni un sostanzioso risparmio di tempi e costi. Concludendo, vi lascio con tre concetti chiave che ritengo fondamentali e che sono alla base di tutti i servizi ProQ. Qualità, integrazione, efficienza.